È un piacere avervi con noi questa sera per l'apertura di questo ufficio che è molto innovativo e che BIP pensa sarà una bandiera per sviluppare lo smart working di cui si è tanto parlato in questi mesi di pandemia. È chiaro che tutto questo si può fare se ci sono realtà come la vostra che aiutano in questa guida, pubblico, privato, tutti. E il fatto che voi siete così milanesi è un grande vantaggio perché conoscete la città, il territorio, per cui è veramente una buona cosa che ci siate e stiate crescendo in questo momento storico. In un momento storico come questo, dopo la pandemia che c'è stata, è ovviamente un segnale fortissimo per la cittadinanza, di ripresa, ma soprattutto di speranza che appunto la ripartenza c'è, è in corso e che quindi da Milano si può raccontare all'Italia tutta che la ripartenza esiste e si può fare. Siamo veramente orgogliosi di aver investito in questo immobile in cui le persone lavoreranno in modo diverso, in cui ci sarà quella parte dei 4.000 che lavorano in modo diverso innovazione diversa ai nostri clienti, ma che ormai oggi diventa la quasi normalità e diventa quasi fondamentale. Siamo nati nel secolo digitale, abbiamo avuto una grande fortuna. È una struttura giovane, innovativa che credo sia proiettata verso il futuro e quindi anche se lavoreremo a distanza, comunque Milano sarà il centro di questo, il motore di questo centro.